L'ufficio anagrafe del comune di Curtarolo a novembre potrebbe chiudere. Oggi ci lavorano solo due dipendenti che per allora andranno entrambi in pensione. Curtarolo 7.300 abitanti ha 19 dipendenti comunali, mentre secondo le tabelle del Ministero dell'Interno dovrebbe averne 46. A Candiana il vigile fa l'ufficiale di anagrafe e anche il messo. Nella bassa c'è carceri che ha circa 1.500 abitanti e 7 dipendenti, anziché 12. Il comune di Ficarra, Messina, dove sono stati scoperti di recente molti assenteisti a circa gli stessi abitanti, 1.400, ma ben 40 dipendenti. In tutta la provincia di Padova, dal 2010 al 2017, per effetto delle normative centrali di non assunzione o di riduzione del personale, i dipendenti comunali sono scesi di 476 unità, da 4.585 a 4.109, mentre la popolazione nella provincia è pure aumentata. La Cisla di Padova ha scritto al presidente Zaia facendogli un appello. È quello di inserire la possibilità che gli enti locali vengano inseriti nelle cinque deleghe e quindi possono essere svincolati da alcune normative che obbligano alla mancata assunzione o alla riduzione dell'assunzione di personale. Autonomia quindi di assumere i dipendenti comunali in proporzione al numero di abitanti, così come dice il Ministero. In provincia di Padova, ma i dati sono uguali anche nelle altre province del Veneto, tutti i paesi, piccoli, medi e grandi, sono sotto organico. Vigili urbani, educatori, impiegati, tecnici, assistenti sociali, informatici. Si può anche firmare una petizione online nell'interesse degli stessi cittadini. Il ruolo del pubblico dipendente viene visto sempre come un ruolo marginale, per cui la richiesta che facciamo oggi noi è proprio questa, di rilanciare il ruolo del pubblico dipendente perché è importante per dar servizi adeguati alla cittadinanza. Grazie.